Gleison Bremer. Sapevate che proprio all'Inter deve il suo nome? Dopo un anno che lo ha proiettato tra i migliori difensori del campionato italiano, affermato per la Juventus, dopo essere stato a lungo inseguito dall'Inter. Il padre, un ex calciatore, aveva infatti deciso di omaggiare a modo suo Andy Bremer, storico terzino neroazzurro, chiamando così il figlio. Il nome completo è Gleison Bremer Silva Nascimento. A spalancargli la strada del calcio come professione è stato un amico di famiglia, procuratore, che lo aveva portato al Desportivo Brasile, nello stato di San Paolo. Lì, lontano da casa, prima che il calcio diventasse definitivamente la sua vita, per mantenersi vendeva gelati e girava l'incasso al suo allenatore, affinché riuscisse a pagare il trasporto per la trasferta. Da giovane amava la box e tuttora dichiara che gli è servita per migliorare la velocità di testa e gambe. Pur giocando difensore, il gol è sempre stato un suo obiettivo. Il suo idolo, infatti, era Robinho. Grazie a tutti.